Guardi qui. Questa è la commemorazione di H. Larenzia, dove si sono fatti tanti saluti romani. Lei pensa che questo rappresenta un rischio di ritorno al fascismo? Io sono la persona meno indicata per dare delle pronostici politiche perché sono una casalinga che scrive che sono poco adatta. Mi fa paura, come anche mi ha fatto molta paura. Ho simpatia umana per Meloni, però sono rimasta scossa quando Ilaria Salis è stata fatta vedere, mostrata, ostentata, sbattuta in faccia al mondo, in quella maniera, con la maschera di ferro, cioè una roba che ricordo veramente il medioevo. Con gli schiaveccioni, eccetera. Ed era talmente evidentemente proprio uno schiaffo in faccia a tutto un paese. Ecco, per la prima volta mi sono sentita italiana, mai nella vita. stavolta ho sentito proprio l'offesa voluta, smaccata, sfacciata ad un intero paese. Ha delle responsabilità, secondo lei, la premier? Beh, io non lo so che ha delle responsabilità, ma devo dire, devono essere molto ricattati per non poter intervenire dignitosamente. Ha telefonato a Orban. Ma dignitosamente? L'offesa era tale che voleva una risposta, secondo me. Le femministe invece dove erano? Beh, le femministe, come al solito, stanno a censurare il linguaggio. Le femministe in Italia non esistono. No, voglio dire, esistono. Lei è stata femminista. No, io sono femminista, ma per modo di dire. Mi sono sempre trovata molto male nei gruppi. Ecco, devo dire la verità. Anticonformista. No, ma c'è sempre del bigottismo, sempre. Poi ci sono i piccoli giochi di potere. Insomma, i gruppi umani, come anche quelli animali, sono pericolosi. E quindi voglio dire anche che le femministe abbiano taciuto. Cioè, bisognava veramente incatenarsi come Ilaria e andare. Perché non l'hai fatto tu? Ecco, sono colpevole anch'io.